Buongiorno dal Tg3, ultimi giorni per i partiti per trovare un accordo sul governo. Lunedì infatti le nuove consultazioni di Mattarella che in mancanza di soluzioni prenderà una sua iniziativa. Intanto i 5 Stelle tornano all'attacco, Di Maio boccia un esecutivo di tregua, dice sarebbe un tradimento del popolo, mentre Grillo ripropone il referendum sull'euro. Valentina Antonello. Voto subito, nessun ritocco alla legge elettorale, questo diranno i 5 Stelle lunedì al capo dello Stato. Porta dunque chiusa. Non esiste tregua per i partiti, i traditori del popolo, dice in transatlantico Di Maio, arrabbiato, deluso, deciso a sbarrare il passo a ipotesi di transizione. Esecutivi di scopo di emergenza del Presidente, i 5 Stelle, tornano sulle barricate. Parlare di legge elettorale, di riforme istituzionali che sono già fallimentari, significa non parlare dei problemi dei cittadini e non volerli risolvere. È proprio per senso di responsabilità che siamo obbligati, dopo 60 giorni di impegno istituzionale, a dire di no. Faremo di tutto per evitare un governo con a capo ancora Renzi e Berlusconi. La Lega continua a chiedere un preincarico. La Lega si assumerà la responsabilità di fronte a tutti i cittadini italiani, non solo i suoi elettori, di non aver dato vita a un governo di cose da fare giuste per i cittadini perché ha salvato Berlusconi. Con la Lega è ormai muro contro muro. Berlusconi e Renzi sono d'accordo a decidere sarà Salvini, è la riflessione di Di Maio. Ad Armanforte, alla svolta di rottura, torna in campo anche Grillo. C'è stato un colpo di Stato alla rovescia, osserva, a causa della legge elettorale. Congegnata Tavolino è la convinzione per impedire al movimento di governare. Si è utilizzata la democrazia per distruggerla, l'analisi affidata alla rivista francese Pouche, dalle cui colonne rilancia il referendum sull'euro, voglio che il popolo italiano si esprima, afferma il fondatore, riportando le lancette del movimento alle battaglie della Primora.